Salve a tutti, il mio nome è Francesco Spendolini e sono un clarenettista specializzato in strumenti storici. Ho studiato clarenetto moderno, sono diplomato clarenetto moderno ed in seguito ho ottenuto il primo livello, sempre in Italia a Vicenza, di clarenento storico. Mi sono spostato in Svizzera, dove ho ottenuto due master, uno in clarenetto classico e barocco ed un secondo master specifico per lo strumento romantico presso la prestigiosa Scuola Cantorum Basiliensis. Per dieci anni a questa parte mi sono dedicato prettamente all'esecuzione su strumenti d'epoca. Questo mi ha dato la possibilità di collaborare con orchestre ed ensemble di fama internazionale che mi hanno appunto dato la possibilità di visitare gran parte del mondo. di suonare in teatri importanti e di collaborare con artisti di fama internazionale. Perché eseguire la musica sugli strumenti d'epoca? Perché lo strumento d'epoca è come una modella sulla quale il compositore ha pensato e ha cucito un abito su misura. E questi strumenti ci portano più vicini all'idea del compositore. Ed è come un po' una specie di macchina del tempo. E' come se ci trovassimo di fronte a un Vivaldi, a un Rossini, a un Mozart, a un Beethoven, a un Brahms. E' come se ce l'avessimo qua a fianco, al tavolo con noi, studiando con noi. E cosa significa studiare strumenti storici? Significa scoprire nuove tecniche, approcciarsi a nuovi strumenti, cercare una propria verità. Significa che per ogni brano avremo la curiosità di cercare lo strumento per il quale era stato scritto. Significa avere la libertà di improvvisare, di trovare nei manoscritti, nelle partiture, quello che il compositore vuole dirci. E per questo abbiamo bisogno di andare alle radici di ogni partitura, di ogni brano musicale che vogliamo studiare. Finalmente anche in Italia ci sono possibilità di studiare Clarento Storico. Alcuni dipartimenti di Musica Antica infatti hanno aperto la classe di Clarento Storico. E ho la grande fortuna di poter insegnare in due conservatori. Conservatorio di Brescia e Conservatorio di Cosenza. Se voglia di approfondire e di conoscere di più il retratore per il nostro strumento e poterlo suonare sugli strumenti d'epoca e conoscere di più Chalumot, il Clarento Parocco, i Clarenti Romantici, gli strumenti classici, il triennio o il biegno di strumento storico è quello che fa per te. Per maggiori informazioni potete contattarmi direttamente sia Facebook che Instagram oppure consultare i siti del conservatore di Brescia o di Cosenza per scadenze e iscrizione.